No, dopo, anche se ho fatto gol subito, sapevamo che era una partita difficile giocando contro il Real Madrid che ha grandi campioni, però l'importante è che noi sia all'andata che al ritorno abbiamo dimostrato di essere, secondo me, una grande squadra, c'è stato il rammarico di non aver passato il turno, però l'importante è che abbiamo dato tutto nelle due partite e poi è andata male, però l'importante è che siamo rimasti uniti e da quella sconfitta ci ha dato forza che dopo abbiamo fatto un grande finale di campionato, anche se siamo arrivati ai terzi, però ci ha dato una grossa mano quella sconfitta.